Buongiorno compagni e compagni, that is my Italian, qua si ferma l'italiano di Sottili. I will speak in English, my English is bad, but I hope you can understand what I will have to say. Parola in inglese? Il mio inglese non è buono, spero che comprendiate quello che voglio dirvi. Speriamo che lo comprendi tu. Ma questo è sicuro, non lo so se lo comprenderò. Ok, vi salutiamo calorosamente da DEA, sinistra operaria internazionale, è un'organizzazione rivoluzionale e fa anche parte di Siriza. Prima di tutto vorrei ringraziarvi dell'invito e della discussione in corso. Possiamo iniziare con una domanda. Qual è la soluzione in un paese in forte crisi e con un livello di resistenza molto alto? Se noi consideriamo questa domanda dal punto di vista strategico, la risposta è molto semplice. una soluzione, una rivoluzione. Questo si capisce. Noi ci crediamo veramente a questa risposta. La nostra organizzazione è una rivoluzionaria di massa. La nostra organizzazione è un'organizzazione rivoluzionaria di massa. Un'organizzazione trotskista che ha dovuto passare attraverso momenti molto difficili. Se vogliamo andare e continuare ad andare in questa direzione, dobbiamo risolvere problemi politici, organizzativi e sociali concreti. Perciò cercherò di descrivervi la situazione in Grecia in cinque punti. Il mio primo punto è sulla situazione nel paese. E' noto che quello che oggi succede in Grecia e che è successo all'inizio della crisi è ciò che sta succedendo anche negli altri paesi del sud Europa. Portogallo, Spagna, Italia e oggi la Francia. Ci sono naturalmente differenze nell'entità e nella brutalità dell'attacco in corso. Vi farò qualche esempio. Hanno iniziato il loro attacco con forti tagli alle pensioni e ai salari. Tutti i lavoratori pensionati in Grecia hanno perso dal 30 al 40% del loro reddito. reale. E questo è al netto dell'incremento reale dell'imposizione fiscale che è salita di circa otto volte in più. Allo stesso tempo il movimento dei lavoratori ha perso il beneficio dei contratti collettivi. E ciò vuol dire che le organizzazioni sindacali hanno perso in gran parte la possibilità di chiedere aumenti salariali consistenti. In questi anni, se contiamo la perdita del PIL, arriviamo a oltre il 28% in meno. e questi sono stimi ufficiali. per la prima volta nella storia ciò accade in un paese europeo in tempo di pace. Per farvi un esempio indicatore, la Grecia durante la seconda guerra mondiale, in tutti gli anni, per tutta la durata della guerra, ha perso il 25% del PIL. Ciò vuol dire che la crisi attuale è peggiore di quella della seconda guerra mondiale. E questo è ovviamente legato al tasso di disoccupazione che ufficialmente è al 30%. Per i giovani si avvicina al 60%. C'è un'estima ufficiale del centro studi dei sindacati che dice che se lasciamo la soluzione al mercato, se tutto va bene e se i capitalisti riescono ad uscire dalla crisi, ci vorrebbero almeno 25 anni per ritornare al livello di occupazione pre-crisi. Ciò è ben compreso dalla maggioranza della classe lavoratrice. Da ciò si comprende perché in Grecia ci sia una richiesta molto vasta di soluzioni radicali. La terza parte dell'attacco consiste in una massiccia ondata di privatizzazioni. Tutti. Ci hanno provato in ospitali, ci hanno provato nel porto Pireus, Cosco. Ci hanno provato con i servizi sanitari. e negli ultimi mesi hanno provato a privatizzare i terreni vicino al mare e anche le famiglie. I terreni vicino al mare. Ah, i terreni vicino al mare. e tutte le house immagino che siano le... What do you mean by house? The house. The house that I live. If I have a debt. If I have a debt in the bank and I didn't pay for the debt, they want to take my house. Ah, ok, e hanno cercato... Ok, hanno cercato, diciamo, di sequestrare, diciamo, le case se non venivano pagate mutui, poi sostanzialmente questo è. Cioè questo si cerca di ottenere con una fortissima imposizione fiscale sui terreni e sulle abitazioni, sugli appartamenti. non hanno promosso un'imposizione fiscale pesante su seconde case che per esempio servono a fini di affitto, ma anche su abitazioni principali in piccoli villaggi. Per esempio, l'appartamento in cui io ho è un appartamento di circa 100 metri quadri in un quartiere operaio. e mi hanno chiesto una tassa di 600 euro per l'anno. Sì, non ridite. Non ridite. Non c'è molto da dire, dice lui, perché se si tratta di giovani lavoratori che prendono 500 euro al mese o disoccupati che non prendono proprio niente, la situazione è ovviamente drammatica. E questo accoppiato allo sviluppo della crisi rende visibile, chiaro alla maggioranza dei giovani, dei lavoratori e della popolazione che questa è una strada senza speranza. Il debito pubblico è due volte il prodotto interno ruolo attualmente. E allo stesso tempo il debito privato è esploso arrivando al 100% del prodotto interno ruolo. Quindi, con il debito del 300% del GPT, è ben conosciuto a tutti che l'accordo del governo greco, la classe greca e i creditori internazionali, la troica, non è valore. Ed è evidente a questo punto che con un debito al 300% del PIL, gli accordi presi dal governo greco, dalle classi dominanti greche e dai creditori internazionali sponsorizzati dalla troica, è impraticabile. Il mio secondo punto è che c'è un laboratorio delle politiche neoliberali che adesso si sta espandendo in tutta l'Europa. Attualmente, il paese con il maggior livello di resistenza sociale è la Grecia. Qui c'è qualcosa di importante da aggiungere. Credo che sia utile per tutte le compagnie e i compagni sapere che questa resistenza in Grecia oggi ha un chiaro centro di definizione. Questo centro è il movimento operaio. Il principale metodo sono le scelte generali e le molte dimostrazioni. I principali mezzi di lotta impiegati sono sciopere generali e manifestazioni di massa. Dal 2010 al 2012 abbiamo condotto 33 sciopere generali, tre dei quali di 48 ore. Anche i movimenti nelle piazze sono stati caratterizzati da una politicizzazione indotta dal movimento operario. E al tempo stesso, il centro della resistenza è stata anche la sinistra. Ovviamente è importante sottolineare che quando parliamo della sinistra non includiamo i socialdemocratici, i socialisti. Parliamo della sinistra comunista. La sinistra comunista in Grecia non ha subito le stesse sconfitte analogamente agli altri paesi dopo il 1989. E in questo momento il movimento operario aveva bisogno della sinistra. E gran parte della sinistra era lì, era presente. Questo era molto importante per le idee, per la resistenza, per la perspectiva della classe lavorativa. E questo è stato molto importante per gli ideali, per la prospettiva, per le prospettive politiche nella classe operaria. Dopo il 2012 abbiamo avuto una situazione nuova. c'è stata una diminuzione delle resistenze sociali. L'anno scorso abbiamo assistito a una situazione di smobilitazione dei lavoratori. Noi facciamo un errore. Non facciamo un errore. I locali e le combattie continuano. Abbiamo, per esempio, ogni settimana, o almeno ogni settimana, una grande sconfitte per ricordare. I cleaners, la radio, in Costco contro la privatizzazione. Tutto il tempo abbiamo avuto, ma non abbiamo il stesso livello nel centro della politica. Certamente non c'è da sottovalutare il fatto che ogni settimana, o quasi ogni settimana, ci sia uno sciopero, per esempio quello delle lavoratrici delle pulizie, dei lavoratori delle radio, o gli scioperi dei lavoratori contro la Costco. Detto ben inciso, chi non la conoscesse, è una grossa compagnia armatoriale cinese che ha acquistato parte del porto del Pireo. E possiamo spiegarlo col fatto che, nonostante tutto, i lavoratori non hanno ottenuto vittorie. non sono riusciti a bloccare le politiche di austerità. Ma io credo che la spiegazione principale sia una spiegazione politica. La resistenza della classe operaia è arrivata molto in atto e a quel livello si è dovuta scontrare con la resistenza fondamentale dello Stato. E intendo polizia armata di armi pesanti, di gas latemogeni. La polizia armata di veri e propri armi da fuoco. che ha protetto il Parlamento da centinaia di migliaia di manifestanti. che intendevano entrarvi, che intendevano accedervi in alcuni degli scioperi generali. questa esperienza ha tornato la maggiorità della classe lavoratoria a iniziare a pensare politicamente. E queste esperienze hanno permesso che gran parte della classe lavoratrice incominciasse a pensare in modo politico. La lotta è così diventata politica e quindi una soluzione per questa lotta politica andava trovata. Il potere, la forza fino a quel momento della classe operaia organizzata non è stata sufficiente a trasformare quella situazione in una vera e propria situazione rivoluzionaria. Una situazione in cui fosse chiara la parola d'ordine, una soluzione, unica soluzione rivoluzione. Ed è per questo che i lavoratori si sono rivolti verso soluzioni di tipo elettorale. hanno riposto le proprie speranze nelle elezioni. In un modo o nell'altro le elezioni arriveranno, il vecchio governo cadrà e arriverà un nuovo governo che proporrà delle soluzioni. E' chiaro che non abbiamo scelto noi questo elettoralismo e non ci piace. Ma questo tipo di elettoralismo è, diciamo così, un elettoralismo di sinistra. perché le speranze della classe operaia sono riposte in gran parte sulla sinistra e soprattutto su Siriza. E questo sta creando dei grossi problemi alle classi dominanti e ai loro alleati internazionali. L'estate è un periodo sempre negativo per le mobilizzazioni. Ma quest'estate abbiamo assistito a grandi mobilizzazioni nel settore pubblico. Si è anche tradotto in un'ondata di resistenza e di lotta alle privatizzazioni. E anche alcune mobilizzazioni importanti contro le tasse sulle abitazioni. Comprese occupazioni di uffici pubblici del Ministero del Tesoro o comunque del Ministero delle Finanze. Non il Ministero, ma sono le uffici pubblici dove sono i servizi che prendono le tasse. Ok, diciamo, esatto, come se fosse l'occupazione dei sedi dell'agenzia dell'entrata, esatto. Per esempio, in un'isola di Jacinto hanno occupato questo tipo di uffici e li hanno tenuti per due giorni. Questo, come vedremo, era l'attività generale. E che posso darvi, sinceramente, l'esplosione della resistenza. E il livello centrale, in realtà, spero di cambiare questa situazione per una vittoria della left. E quindi, in questo quadro generale, che ho cercato di restituire nel modo più onesto possibile, la speranza è riposta, diciamo, nel centro delle mobilizzazioni, che è la classica lavorativa, è riposta in una vittoria elettorale. Il secondo punto che ho affrontato è la situazione politica in Grecia dal 2010 al 2012, che è stato un vero e proprio terremoto. I risultati sono stati assolutamente importanti, perché hanno cambiato la mappa politica della nazione. La prima cosa, la cosa più importante, è stata la rabbia dei lavoratori che ha, di fatto, distrutto il Partito Socialista Greco. Il Partito Socialista Greco, credo, era il partito socialista più forte in Europa. solo alcuni anni prima, arriva il 45% del voto elettorale, compreso la maggioranza nei sindacati. Adesso le prossime elezioni saranno un miracolo se avranno il 5% o il 6%. I lavoratori inglesi oggi conoscono la socialdemocrazia. In realtà i socialdemocratici hanno fatto quello che la destra non è mai riuscita a fare. La distruzione dei lavoratori, dei diritti sociali è stata organizzata e promossa dai socialdemocratici. Il mio terzo punto è che il periodo di resistenza è terminato con la discesa molto consistente di nuova democrazia. Nuova democrazia è il partito conservatore, il partito della grande borghesia. In questo periodo la più bassa percentuale di nuova democrazia era il 33%. E questa era la percentuale di cui godevano dopo la sconfitta pesante del governo di Caramallis nel 2009. E adesso con la nuova leadership dei Samaras sperano di poter raccogliere almeno il 25%. Nonostante questa non è neanche la vera forza della destra in Grecia. C'è un buon 15% della destra che in realtà è più a destra di nuova democrazia. La risultazione è che le circostanze della crisi e la grande resistenza sociale e politica. il risultato politico è una grande polarizzazione della società. Il risultato della resistenza sociale e della lotta politica è una netta polarizzazione della società. E una parte di questa destra a destra di nuova democrazia è Alba Dorata. Ma non è solo Alba Dorata. So che molti sono interessati in ciò che accade in Alba Dorata. Adesso in secondo i sondaggi potrebbe essere di circa l'8%. E questo è il risultato della polarizzazione. Ma, compagni, dovete comprendere che la crescita dei nazisti, perché di partito nazista si tratta, a quel livello non è un fenomeno spontaneo. Questo tipo di estrema destra è sempre esistito in Grecia. Per questo parlo di circa il 15%. La Grecia è stato un paese in cui nel ventissimo secolo abbiamo avuto una guerra civile e due dittature. Forze di estrema destra, della destra più estrema anzi, esistevano, sono sempre esistite, ma erano nascoste all'interno di nuova democrazia. E principalmente dentro le strutture dell'apparato statale. E ciò è visibile, molto visibile adesso. Chi sono gli organizzatori delle attività di Alba Dorata? Agenti di polizia, ufficiali dell'esercito. Per darvi un esempio lampante, nei seggi elettorali in cui la polizia ha votato, Alba Dorata ha raggiunto il 45%. Ciò vuol dire che un poliziotto su due vota Alba Dorata. Hanno eletto due europarlamentari al Parlamento europeo. Il primo generale è ufficiale delle forze speciali dell'esercito. e l'altro è il padre di un militante di Alba Dorata che ha ucciso un anarchico. E tutti quanti una settimana prima delle elezioni europee pensavano fosse un aderente al partito socialista. e Alba Dorata si è avvantaggiata di alcuni grossi eventi. Nel dicembre del 2008 ci fu in Grecia una grande rivolta dei giovani. Per un mese Atene bruciò. E la rivolta era stata condotta da giovani anarchici. Il risultato è stata una grande sconfitta. E dopo questa sconfitta i nazisti hanno cominciato a organizzare gran parte della gioventù contro gli anarchici. con metodi ovviamente violenti. E adesso andiamo ad un altro punto sui movimenti di Dignado che abbiamo anche in Grecia. Passerò adesso ad un altro punto c'è il movimento di piazza o il movimento degli indignati che abbiamo anche in Grecia. Abbiamo avuto uno scontro nel movimento delle piazze. la sinistra si è organizzata in modo separato. riconosco adesso che avremmo dovuto essere più duri nei confronti del nazionalismo greco. ma all'inizio abbiamo assunto un atteggiamento più morbido. L'argomento che avevano è che la Grecia è diventata una colonia di Germania con molti freddi e strati con slogans antipolitici come «Everybody is safe». L'argomento principale che usavano era che la Grecia stava diventando una colonia tedesca e si assisteva allo sventolio di numerose bandiere per le state greche con slogan politici del tipo «Siete tutti ladri». «Sappiamo che l'antipolitica non è mai nessuna politica». Adesso, nel movimento degli ultra, Alba Dorata organizza una grossa fascia sotto lo slogan «Nessuna politica». Ma è anche importante parlare delle altre componenti della destra greca. Samaras ha un consigliere molto importante il cui nome è? «Baltacos». «Baltacos». «Era segretario del Consiglio dei Ministri». «Era segretario del Consiglio dei Ministri». «Che è stato espulso perché è scoperto a trattare segretamente con Alba Dorata». «L'ultimo giorno, nei giornali, hanno trovato SMS da Baltacos che i MP di Golden Dawn devono votare nel Parlamento». «Sui giornali sono stati pubblicati SMS di Baltacos ai parlamentari di Alba Dorata con indicazioni su cosa votare in Parlamento». «Ê che, devo andare un po' un po' un po' un po' di più rapido. Quindi, in questa foto, potete capire come è venuto la vettura della Syriza in le elezioni, intenzialmente nelle elezioni europee, e ora, in 4 gali, Syriza è 4 punti in fronte della nuova democrazia. La vittoria di Syriza in le elezioni europee, secondo ultimi sondaggi disponibili, Syriza sarebbe 4 punti percentuali avanti nei confronti di nuova democrazia. La vittoria di Syriza all'europea ha due colonne portanti. La prima è l'unità della sinistra. E questa non è solo un'unità a parole. E' stata una politica perseguita a lungo termine da molti anni. E lo facciamo dai tempi di Genova, dal 2001. Abbiamo fatto il movimento anti-globalizzazione nei forum sociali europei. Quello è stato il primo passo nell'organizzazione di un fronte unico. La creazione di Syriza è stato il secondo passo. At the last European elections, and in Greece in the same time we have municipal elections, Tsipras, so you can see that even in the leadership of Syriza, pubblicamente called for an anonymous support in all the regions where member of the Communist Party was confronting right. Do you want to tell it again? Ok. All'ultima elezione europea e allo stesso tempo alle elezioni amministrative. Tsipras ha pubblicamente chiesto un supporto incondizionato. In tutte le regioni, in tutte le province in cui un militante del Partito Comunista si dovessero fronteggiare la destra, al secondo turno. E questo fa capire come, anche nella più alta dirigenza di Syriza, l'unità sinistra sia una politica reale. Ci sono solo quattro aree in cui questo è successo. In queste quattro aree in cui la sinistra aveva candidati provenienti dalle fila del Partito Comunista. In queste municipalità i candidati hanno vinto con oltre il 60% dei suffragi. E questa è una prova. Dopo la chiamata al voto di Tsipras, al sostegno di Tsipras, il Partito Comunista ha in maniera assolutamente decisa rifiutato questo sostegno. Ad esempio, per quanto riguarda invece la sinistra, la piattaforma di sinistra, che rappresenta appunto l'area di sinistra interna a Syriza, durante l'ultimo congresso ha ottenuto più del 30%. Sia noi l'idea che la sinistra, la corrente di sinistra del sinistra. Rappresentiamo un terzo circa della piattaforma di sinistra, quindi intorno all'8-10%. Ovviamente la piattaforma di sinistra appoggia la politica di unità con il Partito Comunista e con l'Antarsia. All'edizione amministrativa abbiamo scelto due aree, due quartieri. Uno si chiama Jalandri, un quartiere della classe media. E l'altro, Cherazzini, quartiere operaio, lo stesso in cui Pavlos Fissas fu assassinato da militanti di Alba Dorada. In queste aree abbiamo sostenuto come candidati sindaco dei compagni indipendenti, ma in realtà vicini ad Antarsia. E hanno vinto. E hanno vinto. E abbiamo dovuto condurre una grossa lotta dentro Siriza. L'ala testa di Siriza non accettava questa situazione. Ci accusavano, diciamo, di estremismo di sinistra. Ma abbiamo vinto in queste aree. E adesso qualcuno dentro Antarsia sta dicendo che quello fu un errore. Perché si sono dovuti alleare a forze all'interno, con forze all'interno di Siriza. E insieme alla politica dignità delle sinistre, il secondo pilastro del successo di Siriza è stata la parola d'ordine del governo delle sinistre. Comparati, sappiamo che questa è una politica molto difficile. Questa proposta, la prima proposta, era da un più radicale, l'ex leader di Siriza, era più radicale che Tsipras. Questa proposta per la prima volta è venuta dal leader precedente di Siriza, non Tsipras quindi, che era più radicale. Il suo nome è Aleko Salavanos. E proponeva questa parola d'ordine prima della crisi. E aveva lanciato questa parola d'ordine in una conferenza di Siriza nella quale aveva sostenuto che avessimo dovuto lanciare il governo delle sinistre. At the time, DEA, us, has refused, and we said no, we don't support it, because in a peaceful period, let's say period, the proposition of the government of the left means parliamentary and alliances to the right. E a quel tempo noi di DEA rifiutiamo questa proposta, perché in tempi di pace si sarebbe inevitabilmente tradotta in una parola d'ordine parlamentarista. Ma la crisi ha cambiato tutto, la resistenza dei lavoratori e i risultati di questa resistenza. Perché adesso questa proposta politica in realtà apre la questione, pone la questione il potere. In questo contesto, questa parola d'ordine, il contenuto che dovrebbe avere un governo delle sinistre, è un elemento essenziale di dibattito dentro Siriza e dentro la sinistra più larga. E questo è quello che noi abbiamo pensato quando abbiamo deciso di sostenere la parola d'ordine del governo delle sinistre. Sappiamo che sarà molto difficile chiarire il significato di questa parola d'ordine dentro Siriza. Lo stiamo facendo con un giro di incontri pubblici. Abbiamo pubblicato i libri di John Riddell, che non conosco. Sulla quarta conferenza della terza internazionale. In questo libro si evince che esiste una tradizione nell'ambito del movimento comunista di fronte unito e di sostegno del governo delle sinistre. Ma attenzione, ovviamente, in modo transitorio, come elemento di transizione, non in senso astratto. Un governo che apre delle possibilità importanti per il movimento operario. Non come un governo che salverà il paese. Non come un governo di salvezza del paese. Ma partendo con il mio metodo transitorio, dai problemi che stiamo affrontando adesso, e non sulla falsa riga dei falsi dibattiti rispetto al governo delle sinistre in Francia. E adesso mi occuperò della sinistra. Un problema molto grosso per noi è il Partito Comunista. All'inizio di settembre è uscito l'ultimo numero della loro rivista, la rivista comunista, pubblicata ogni due mesi. C'erano tre articoli sul movimento operario, il movimento contadino e il movimento degli studenti. In tutti gli articoli, la linea era che abbiamo cercato di aumentare le forze del Partito Comunista. E tutti gli altri, non sono comunisti, abbiamo nulla a fare con loro. Tutti gli articoli, fondamentalmente, dicevano che il Partito Comunista sta cercando di far crescere le proprie fila, mentre tutto il resto non era comunista e quindi non era digno di considerazione. In realtà, come dicono, facciamo rivoluzionari per il futuro. Quindi stiamo esercitando pazienza rivoluzionaria per il futuro, questo dicono. In realtà è una cosa analoga alla politica del terzo periodo. Loro dicono che Siriza è sostanzialmente la stessa cosa del PASOK, sono opportunisti, per cui non abbiamo niente a che fare con loro. Non neanche negli scioperi hanno ricercato l'unità, o hanno chiesto l'unità. Anche adesso, nelle manifestazioni che vengono organizzate, organizzano delle manifestazioni a parte, anche all'interno dei sindacati. In realtà è un partito profondamente conservatore. Per farvi un esempio, durante la rivolta giovanile nel 2008, l'allora presidente del Partito Comunista, Paparica, disse... Nella nostra rivoluzione non romperemo neanche una finestra. Loro predicano pazienza, però nonostante gli stiamo esercitando una fortuna, fortissima pressione per l'unità, affinché aprino il loro partito all'unità con Siriza e le altre forze della sinistra. Adesso parlerò di Antarsia. L'Antarsia è composta da buoni compagni e compagni, ottimi militanti. partecipano e sono coinvolti in tutte le lotte, in tutte le battaglie. Ma in realtà non hanno proposte politiche. parlano di sovieti, di controllo dell'operaio, però in realtà non offrono alcuna soluzione politica ai problemi odierni, ai problemi dell'oggi. e in realtà tornano al settarismo, sconfinano al settarismo. Vi do un esempio, io sono un insegnante e quindi sto nel sindacato degli insegnanti. che ci sono generalmente e nei colleghi regionali, in cui si decidono le politiche della scuola... Ci sono tre membri eletti dallo Stato, giusto? Dallo Stato, dallo Stato, e due eletti dal sindacato. Ah, eletti all'interno di tutto il corpo docente. Quindi, 10 anni dopo, queste due posizioni erano nel passato, nei dieci anni precedenti, occupate dal PASOC, da Nuova Democrazia. Negli ultimi anni abbiamo stretto un'alleanza tra Siriza e Antassia e siamo riusciti a strappare un posto, una posizione. Adesso abbiamo queste elezioni. E in molte regioni Antassia sta uscendo fuori sostenendo di non voler stringere più alleanze con Siriza. E lo peggiorno è che proviamo a preparare una proposizione per una strappata. Quindi nella federazione, sempre Siriza è il primo potere, ma non abbiamo la maggiorità. Quindi, sempre, passiamo le proposizioni con il supporto di Antassia. Siamo supportando la strappata. E hanno detto che non, devono decidere per la strappata continuamente. Se non votiamo per la strappata continuamente, non votiamo con voi. Ogni volta che cerchiamo nel sindacato di far passare delle proposte di sciopero, anche con il sostegno di Antassia, generalmente si rifinitano sostenendo che se non si indice uno sciopero generale, però lungato e continuativo, non hanno interesse a votare alcuno sciopero. Quindi è una ritirata, diciamo, non solo a livello politico, ma anche a livello sindacale. Ma, in Siriza è una piatta, non è una piatta, non è una piatta, non è una piatta. Ma, in Siriza, nelle piattaforme di sinistra insistiamo, continuiamo ad insistere su proposte di alleanza con Antassia. Perché nelle organizzazioni operaie e nei sindacati la piattaforma di sinistra è la maggioranza. E quindi insistiamo che venga fatta una coalizione con Antassia. Le prospettive. Samaras cercherà di restare al governo fino al 2016. Non sappiamo se ci riuscirà. Perché a fine febbraio dovranno eleggere il Presidente della Repubblica. Per quello non ho bisogno di 180 parlamentari. E a tutt'oggi non ce l'hanno. Per questo diciamo che non sappiamo se ci riuscirà. Ma il biggest problema è che la pressione delle misure da approvare rendono la vita difficile anche ai suoi parlamentari. Siriza è, come vi ho detto prima, in testa nei sondaggi. La discussione politica all'interno di Siriza è vette su due questioni principali. Il programma e le alleanze. Il programma è molto disegnista, pari socialismo eccetera. Ma la realtà è il discorso di Tsipras a Salonico ai primi di settembre. Tsipras ha promesso che il salario minimo tornerà a 751 euro. Tsipras ha promesso che il salario minimo tornerà... 751 euro. Adesso è 530 euro. Ha detto che darà la tredicesima alle pensioni. e aumenterà anche le pensioni minime. E restaureremo il contratto collettivo. E elimineranno la tassa sulla casa. E elimineranno la tassa sulla casa. E fino a 1200 euro i salari non saranno tassati. di migliorare le tasse sui carburanti per il riscaldamento. E aumenterà la tassazione sulle società. Controllo pubblico sulle banche. E getterà al macero il memorandum. E crede anche che dopo i negoziati con la troica la Grecia potrà ripartire e ci sarà di nuovo una crescita economica. Ok, queste promesse sono seriose promesse. Ma il problema è contro l'austerità. Ma il problema è che l'illusione in questo è che può succedere questo Il problema non sta nelle promesse, ovviamente sono promesse serie contro l'austerità. Ma nell'illusione che ciò si possa ottenere pacificamente con un negoziato con l'Unione Europea e la troica. La corrente di sinistra in Siriza ha respinto questo piano. Non accettiamo con questo. Dobbiamo accettare queste promesse ma dovremmo parlare dentro Siriza e nella società sull'illusione della cipra e della liderazza. Cioè a dire che noi accettiamo ovviamente queste promesse ma sia in Siriza che nella società nel suo complesso dobbiamo denunciare le illusioni di Tsipras e della dirigenza di Siriza. e noi stavamo in Siriza e noi stavamo in Siriza a mettere in queste promesse che non pagano come si dicevi se mettere in la banca e prendere la banca che prendere la banca l'interesse che non pagano l'interesse e noi stavamo nazionalizzare le banche per avere controllo pubblico e lavoratori in questo. Abbiamo questa confrontazione in Siriza. E abbiamo detto chiaramente che noi non pagheremo gli interessi del debito e vogliamo che le banche siano nazionalizzate sotto controllo dei lavoratori. E questo è lo scontro che oggi avviene in Siriza. Siamo convinti che il momento della verità sia molto vicino per Siriza e Tsipras. Siamo nei cento metri finali e ci stiamo preparando per questo. Ma adesso insomma qualche parola sul rapporto tra Siriza e Dea. il primo è che non facciamo entrismo. Lavoriamo apertamente in Siriza. vendiamo le nostre riviste. Lottiamo per le nostre opinioni in tutte le istanze del partito. perché la politica del fronte unito è una politica difficile, dura, ci sono scontri, non è tutto rose e fiori. tutti i nostri membri tutti i nostri membri militanti che sono anche membri delle strutture locali di Siriza accettiamo le decisioni di Siriza prese con la maggioranza di due terzi. ma questa insomma è solo una parte della verità. La seconda parte è che c'è un livello di sfiducia reciproca. abbiamo rifiutato di sciogliere la nostra organizzazione all'ultimo congresso di Siriza. e abbiamo dovuto lottare molto per questo. e in realtà non solo le aree di sinistra ma una parte più grande dei membri di Siriza supporta noi in questo partito. e non solo le aree di sinistra ma anche gran parte di Siriza ci sostiene in questa battaglia. quindi è molto chiaro per la liderazza di Siriza e per tutti in Siriza che abbiamo la nostra opinione che combattiamo per questo e cerchiamo di reclutare membri nelle nostre organizzazioni con queste proposte politiche e opinioni. quindi deve essere chiaro per la dirigenza di Siriza e per tutti i compagni di Siriza che noi cercheremo di raccogliere nuovi militanti attorno a queste proposte. abbiamo un buon rapporto con la corrente di sinistra abbiamo costruito la piattaforma di sinistra con loro ma non ci adagiamo su questo sappiamo che provengono da una tradizione stalinista e quindi sulle questioni cosiddette patriottiche o nazionaliste hanno qualche problema all'ultimo congresso Tsipras ha cercato di sciogliere tutte le correnti e fare di Siriza un unico partito monolitico non ci è riuscito e le classi dominanti invece avrebbero voluto che così fosse i maggiori buddiani borghesi hanno chiesto sulle loro pagine a Tsipras come avrebbe fatto ad andare al governo con quegli estremisti quei 300 toroschisti all'interno del suo partito insomma ci troviamo qui la strada è dura, le lotte sono davanti a noi e sarà cruciale il sostegno che avremo nelle nostre lotte per il governo delle sinistre dall'Italia, dalla Spagna e dalla Francia la lotta era e rimane una lotta comune grazie 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 grazie